ciao a tutti bacon fatto in padella ora sto facendo ravioli cinesi comprati da lidl e poi faccio l'hamburger scottona ok eccomi qua la ravioli mentre sto facendo come per secondo l'hamburger ottimo il fatto con me mi faccio vedere la mugger che sta facendo bacon un tanto e da molto tempo non faccio un video del genere ovviamente con l'hamburger metto la tassa barbecue scusate se sentite abbagliare il mio cane ok il primo è finito ora la seconda hamburger con salsa barbecue e bacon è veramente step